Confiscati beni dal valore di 500.000 euro ad un imprenditore agrigentino per esercizio abusivo di gioco e scommesse e truffa aggravata. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Palermo, è il risultato dell'attività investigativa condotta dalla DIA, che analizzando la carriera imprenditoriale del soggetto, ne ha messo in luce la pericolosità sociale. Secondo gli inquirenti, l'attività illecita dell'imprenditore sarebbe stata attuata al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando società estere per indirizzare proventi delittuosi dei flussi finanziari generati. Il decreto di confisca riguarda quote di partecipazione in società, anche estere, esercenti l'attività di raccolta di scommesse, due auto di lusso, diverse polizze assicurative, conti correnti, depositi a risparmio. La pericolosità sociale dell'imprenditore, inoltre, ha reso necessaria l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni.